Allora vi spiego È una cosa un po' strana Perché c'è uno che sta riprendendo lì E un altro che sta riprendendo qui Ah, io mi uccido In realtà non c'è nessuno Che mi sta guardando Era un modo, diciamo, per insultarti E rimorchiare facendo lo stronzo, capito? Insultandoti Ok Prego Con San Valentino Abbiamo un canale su YouTube Non è un problema per voi Sì, esattamente Ok, dai, ciao ciao Dai, stavo riprendendo da là Aspetta, vieni, vieni No, l'ho vista la videocamma L'ho vista, allora perché fai L'aspetta e ti spiego, fermati un secondo Fermati E come, non solo lo pubblico senza che mi dia il permesso La posso pubblicare? No Dai E che vuol dire? Comunque stiamo facendo in realtà un video Stai facendo un video? Sì Quindi io apparirò tipo su YouTube o qualcosa del genere Ma fino alle 7 quindi rimani oppure no? Davvero Non lo fai solo per il video E mi guardi così? Allora, ora vado a fare la scena e dopo vieni con me al cinema Ma davvero mi prendi per il culo? Davvero Dimmelo se mi stai prendendo Perché ti dovevi prendere per il culo? Sono serio? No, stai con una telecamera, dai Stacca, stacca, stacca Stai un'ora, non mi fai lasciare in me No, vabbè, vabbè Ti denuncio comunque Stacca, stacca, stacca Dai, non fai Dai, un'ora, non mi fai lasciare in me Ma vedi come un'ora? Non mi fai a ridere, ma Rivedo tre Come dice da Come dice da Fatti un buglio di cazzo No, no, non mi fai lasciare in me